Il giudizio della giuria? Loretta Goggi? Sono rimasta molto colpita, è stato veramente emozionante, l'hai cantata in maniera delicata, senza giocare tanto sulla caratteristica vocale di Pino. Tu ci hai messo l'anima e questo è quello che è arrivato, Enrico Montesami. Io mi sono commosso perché questa melodia è una poesia senza tempo. Sono innamorato del dialetto napoletano, tu hai dato di Pino quella melanconia, quello romanticismo meraviglioso come lo dava lui, quel romanticismo tipico di Napoli. Claudio Amentula. Premetto che Pino Daniele era il mio musicista preferito, però so che per te lo era più che per me. Ero in ansia per te, invece ti devo dire bravo. Luca Argentelli. Ah, ho trovato molto elegante l'omaggio come lo hai descritto giustamente tu, per me è stato più un omaggio che un'imitazione. Sei stato molto bravo.